Questa è la storia dei cinque anni che ho trascorso da ragazzo con la mia famiglia nell'isola greca di Corfu. In origine doveva essere un resoconto blandamente nostalgico della storia naturale dell'isola, ma ho commesso il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del libro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.